Aiutiamoli a casa loro! Parliamo di Tony Iwobi. Tony Icike Iwobi, meglio conosciuto come Tony Iwobi, è un senatore della Repubblica e politico della Lega Nord, che è stato eletto al Senato Italiano nelle elezioni del 2018. È nato il 26 aprile del 1955 a Gustau, una città a maggioranza islamica a nord della Nigeria, grande più o meno 3.364 km2 e con una densità di popolazione di 110 abitanti per km2. È uno di 11 fratelli di una famiglia di religione cattolica di etnia Igbo, una delle etnie maggioritarie della Nigeria. È arrivato in Italia nel 1976 ed ha conseguito una laurea in ragioneria a Treviglio. Tra le sue idee politiche principali troviamo un forte sentimento federalista. A proposito, anche la Nigeria è un paese federalista, precisamente è una repubblica presidenziale di tipo federale, che lega 36 stati. Ma torniamo a Tony Iwobi. Entrò a far parte della Lega Nord, dove si ispirò particolarmente a Gianfranco Miglio, il fondatore del partito federalista, e alle elezioni politiche del 2018.